La nostra è una performance, scusa se ti rompo, una performance di musica e poesia e adesso gli stessi sono suoi e adesso l'ultima. E volevo ricordare che stiamo suonando a 432 Hz che è una, adesso ce lo spiega proprio meglio, un'onda, l'onda della terra. Sul foglietto che c'è su qualche tavolo c'è una spiegazione perché fosse curioso. Ed è una frequenza che fa bene al cervello e allo spirito. Due parole per questo perché è molto importante per noi. Allora, due paroline per non tediarvi troppo che già la stiamo tirando per le lunghe. Allora, 432 Hz. Vi leggo qualcosa che non mi sto inventando ma qualcosa che se avete voglia vi potete informare in rete, ci sono un sacco di info. Allora, l'importanza del tuning, l'intonazione. Il termine diapason, partiamo dal diapason perché è questo l'origine. Il termine diapason ha diversi significati ma più comunemente indica lo strumento che serve per generare una nota standard. È inoltre uno strumento utilizzato in medicina. Per alcuni musicisti moderni, molto probabilmente il diapason è praticamente uno strumento sconosciuto oppure uno strumento con una collettura standard a 440 Hz. Eppure il diapason potrebbe contenere in sé il vero significato del reggino di certe emozioni umane come dello stress, della calma, della malattia e della salute. Comprendere questo strumento e la sua fisica equivale forse a comprendere tutto il meccanismo compositivo. Quindi, nell'universo è tutta energia e vibrazione. Il ritmo vibratorio di un oggetto, compreso il corpo umano, si chiama risonanza. Scusate che vedo poco. Ogni organo, osso o tessuto dell'organismo possiede una frequenza specifica risonante. Quando la frequenza si altera, può succedere più volte che quella parte del corpo sia male perché vivere in modo disarmonico. Al contrario, un vibrare all'unisono o risonare armonicamente significa essere in salute, in armonia con il tutto. 440 Hz è la frequenza di riferimento per tutti gli strumenti musicali sulla quale si esegue l'accordatura, compreso. Tutto ciò che ci circonda, la musica che ascoltiamo nelle varie radio, i pod, stereo, pc, eccetera, più ovunque, insomma. È stato uscito arbitrariamente l'A440 all'ombra nel 1953. È da allora diventato la nota di riferimento mondiale. Precedentemente il ministro della propaganda nazista Joseph Gebbers impose, nel riferimento del 1939, il diapos a una 440, quindi già parliamo in tempi addietro, ignorando un referendum contrario promosso in Francia da 25.000 musicisti. Giuseppe Verdi, nel 1884, scrisse una lettera indirizzata alla commissione musicale del governo italiano, senza ottenere il risultato sperato, in cui chiese di unificare l'utilizzo del corista diapason a 432 Hz. Ascoltare, suonare, cantare musica armonizzata alla frequenza del diapason scientifico a 432 Hz può donare beneficio a tutti. Ascoltare, suonare e cantare musica con il diapason disarmonico a 440 provoca caos e tensione nella nostra percezione quotidiana. Questo che vi ho detto, cioè potete tranquillamente andare a cercare, ripeto in rete, informarvi, approfondire, non è nulla che vi sto inventando ma credo sia importante, visto che parliamo della nostra armonia quotidiana. Basta pensare ai delfini che hanno le loro capacità curative, con il loro ruolo. E se vogliamo parlare dei cambiamenti, questo è uno dei cambiamenti che possiamo attuare, noi musicisti e tutti quelli che fanno musica ascoltano la musica, giusto? E questa è la frequenza che noi abbiamo scelto di utilizzare, perciò godretevi il resto della serata. Sì, mi va.